E cominciamo a vedere quali sono gli elementi più importanti per la chimica della vita. La vita è un incredibile fenomeno secondo cui la materia si organizza in strutture complesse e funzionali, canalizzando flussi energetici in complesse reazioni chimiche e processi fisici. Gli elementi chimici principali che sulla Terra, perché solamente questo esempio ne conosciamo, costituiscono esseri eventi sono l'idrogeno, l'ossigeno, il carbonio e l'azoto. Questi sono tra gli elementi più diffusi nell'universo e costituiscono la maggior parte della massa degli esseri eventi sulla Terra. Però non sono gli unici elementi chimici utilizzati dalla vita, ma sono i più importanti. Infatti se andiamo a vedere la loro proporzione reciproca, vediamo che l'idrogeno corrisponde al 9,5% di tutta la massa degli esseri eventi, l'ossigeno il 65%, il carbonio il 18,5% e l'azoto il 3%. Altri elementi come il sodio, il potassio, il calcio, il fosforo, lo zolfo e il ferro rappresentano percentuali molto minori. Però, come vedete, la maggior parte della massa di piante, animali, batteri che vivono sulla Terra, sono costituiti da questi elementi chimici. Anche se l'ossigeno rappresenta in massa la maggior parte, quello più importante che costituisce l'ossatura delle molecole, come vedremo in questa lezione, è il carbonio. Ma prima di vedere questo, vorrei un attimo fare un piccolo ripasso di chimica e vedere com'è fatto un atomo. Un atomo è costituito da tre particelle subatomiche. Abbiamo i protoni, che hanno una carica positiva e una massa di 1,672 per 10 alla meno 27 kg. I neutroni, che hanno una carica neutra e una massa simile, intorno a 1,675 per 10 alla meno 27 kg. Queste due particelle costituiscono il nucleo dell'atomo. Quindi i nuclei degli atomi, che contengono il 99,9% della massa di un atomo, sono concentrati in queste due particelle nella parte centrale di un atomo, definito come nucleo. Poi abbiamo gli elettroni, che hanno una massa molto minore. Mentre un protone pesa più o meno quanto un neutrone, un elettrone è di ben quattro ordini di grandezza più piccolo. Infatti è circa 1800 volte più leggero di un protone o di un neutrone. Gli elettroni hanno una carica negativa e si trovano esternamente al nucleo. Orbitano intorno al nucleo sotto forma di una nuvola elettronica che avvolge praticamente l'atomo. Quali sono le informazioni principali che dobbiamo conoscere di un atomo? Quando prendiamo la tavola periodica, troviamo che ogni atomo è rappresentato da una casella di questo tipo, in cui abbiamo il simbolo dell'elemento chimico al centro, il numero atomico in alto e il numero di massa atomica in basso. Cosa sono questi valori? Il numero atomico rappresenta il numero dei soli protoni presenti nel nucleo. Praticamente ci dice quanti sono i protoni che possiamo trovare nel nucleo di quello specifico elemento chimico. Questo numero definisce la specie chimica. Per esempio il carbonio ha numero atomico 6, l'azoto numero atomico 7, l'ossigeno numero atomico 8. Tutti gli elementi chimici sulla tavola periodica sono ordinati secondo questo valore, il numero atomico. Poi invece abbiamo il numero di massa atomica, che corrisponde alla somma di protoni e neutroni presenti nel nucleo. Normalmente il valore è doppio perché abbiamo un numero di protoni pari a quello di neutroni, ma nel corso di chimica abbiamo visto che questa non è la regola e che ci possono essere atomi con un numero di neutroni diverso da quello dei protoni. In quel caso parliamo di isotopi e un numero maggiore di neutroni corrisponde a una massa maggiore dell'atomo. Però tutto questo l'ho già detto nel corso di chimica. Andiamo avanti e parliamo della elettronegatività. Gli atomi infatti si legano a formare molecole semplici e complesse, e questo è importantissimo per la vita perché gli esseri identi sono fatti di molecole semplici e complesse, e che sono di fatto i mattoni degli esseri identi. Per sapere come fanno gli atomi a legarsi tra loro dobbiamo capire che cos'è l'elettronegatività. L'elettronegatività è la capacità che ha un atomo di attrarre a sé elettroni, sia strappati che condivisi con altri atomi. Qui vediamo la tavola periodica che rappresenta i valori di elettronegatività. Possiamo vedere che questi valori scendono dall'alto verso il basso e aumentano da sinistra verso destra. L'atomo più elettronegativo è il fluoro, qui in alto a destra, mentre quello meno elettronegativo è il francio, qui in basso a sinistra. La differenza di elettronegatività tra due atomi che si vogliono legare ci determina la tipologia di legame chimico che questi effettueranno. Infatti, se prendiamo due atomi che hanno una grande differenza di elettronegatività, tra loro si formerà un legame ionico e normalmente saranno un metallo e un non metallo. Affinché si formi un legame ionico, la differenza di elettronegatività tra i due atomi deve essere maggiore di 1.9. E qui possiamo vedere i vari valori. Quindi troviamo valori molto bassi a sinistra, valori molto alti a destra, ed è facile capire che questo legame interessa elementi che si trovano ai margini opposti della tavola periodica, che sono praticamente sempre rispettivamente non metalli e metalli. Poi invece, quando abbiamo valori di elettronegatività più bassi, possiamo trovare sia legami covalenti che metallici. Il legame covalente li troviamo tra atomi entrambi non metallici, mentre il legame metallico lo troviamo tra elementi che tra loro hanno sempre una bassa differenza di elettronegatività, ma sono entrambi metallici. Questo argomento l'ho già fatto in dettaglio nel corso di chimica. Per quanto concerne questo corso di biologia, ci interessa in particolare il legame ionico e il legame covalente, perché sono quelli che hanno dei ruoli molto importanti per la vita sulla Terra. Andiamo con ordine e cominciamo dal legame ionico. Quando prendiamo un atomo molto elettronegativo, come il fluoro, che qui vediamo è 4, e uno poco elettronegativo, come il sodio, che qui vediamo essere 0.9, e la loro differenza è maggiore di 1.1, 4 meno 0.9 fa 3.1, quindi ha una differenza di elettronegatività molto alta. Come detto, quando avviciniamo questi due atomi, quello più elettronegativo, come ad esempio il fluoro, ruba un elettrone a quello meno elettronegativo, in questo caso il sodio. Allora, quando il fluoro ruba un elettrone, acquisisce una carica elettrica negativa e diventa uno ione negativo, detto anche anione. Mentre quando il sodio perde un elettrone, acquisisce una carica elettrica positiva e diventa uno ione positivo, detto catione. Questi due atomi, non più neutri, ma aventi una carica elettrica, si attraggono tra loro perché hanno carica opposta, e abbiamo quindi un legame ionico. I legami ionici, come vedremo, sono molto importanti per la vita sulla Terra, perché hanno un ruolo importante nei processi biologici e biochimici che permettono agli esseri eventi di sopravvivere sul pianeta. Andiamo avanti e vediamo come si può rappresentare questo legame con la simbologia di Lewis. Sappiamo che il sodio ha un solo elettrone di valenza, gli elettroni di valenza sono gli elettroni dell'ultimo guscio di un atomo che sono coinvolti nei legami chimici, mentre il cloro ne ha sette. Per completare il loro ottetto, secondo appunto la regola dell'ottetto, posso rappresentare il legame, secondo Lewis, in questo modo, in cui i due atomi inoltre ionizzati si legano formando un ottetto completo. Qui possiamo vedere il caso del sodio, in cui il rapporto è 1 a 1, ma possiamo anche vedere il caso del calcio, che ha due elettroni di valenza e con essi può legarsi con due atomi di cloro, creando il sale CaCl2. Dico sale perché ogni volta che io ho un legame chimico che contiene al suo interno un metallo e un non metallo, abbiamo un sale. Tutti i legami ionici sono tipici dei sali. E vediamo che, anche in questo caso, sia il sodio e il cloro che il calcio con cloro hanno una differenza di elettronegatività maggiore di 1.9 e quindi sono dei legami ionici. Il legame ionico ha questa caratteristica di avere una struttura scacchiera. Cosa vuol dire? Che nella loro struttura cristallina ogni ione positivo è circondato solamente da ioni negativi e viceversa. E abbiamo, nel caso più semplice del sale, una struttura di tipo cubica, in cui vedete che ogni sodio è circondato solamente da clori e viceversa ogni cloro solamente da sodi. Questo rende il legame molto forte, tanto che il sale fonde a più di 500 gradi centigradi. Ma, come vedremo, è anche un punto vulnerabile perché si scioglie facilmente in acqua. Un'altra cosa da dire. L'energia di reticolo è l'energia di legame racchiusa nel reticolo cristallino del sale ionico allo stato solido. Si ottiene con la somma algebrica dell'energia di ionizzazione sia dell'anione, ovvero dello ione negativo, che del catione, ovvero dello ione positivo. Che cos'è l'energia di ionizzazione? È l'energia che mi serve per ionizzare una mole di quello specifico atomo. Facciamo un esempio. Per ionizzare una mole di sodio ho bisogno di 496 KJ per mole. Quindi una mole di sodio, che equivale a 6,022 per 10,23 particelle di sodio, che sono tantissime particelle di sodio, vengono ionizzate utilizzando una quantità di energia pari a 496 KJ, quindi 496.000 J. Mentre per ionizzare una mole, quindi la stessa quantità di molecole, di cloro, ho bisogno di 349 KJ per mole. Come vedete, i valori qui sono opposti, perché per ionizzare i due atomi in segno opposto hanno bisogno di valori di segno opposto di energia, perché uno viene ionizzato in modo positivo, l'altro viene ionizzato in modo negativo. E cosa succede in questo caso? Che io devo fare la sottrazione tra questi due valori e ottengo che l'energia complessiva di legame è di 147 KJ per mole, ovvero se io volessi rompere questo legame devo fornire 147 KJ per mole per rompere di fatto una mole di queste molecole di NaCl. Questo l'abbiamo già visto in chimica, ma lo sto rivedendo adesso nel corso Biologia perché ci servirà poi per comprendere i vari processi biochimici presenti in questo corso. Oltre al legame ionico, nel corso di Biologia ci interessa anche il legame covalente. Quando è che abbiamo un legame covalente? Quando atomi poco distanti sulla tavola periodica hanno tra loro una differenza di elettronegatività minore di 1.9. In quel caso, se gli atomi non sono metallici, mettono in comune i loro elettroni, creando orbitali in comune. Questo è il legame covalente. Le molecole organiche principali esseri viventi come proteine, aminoacidi, lipidi e grassi, carboidrati e acidi nucleici sono costituiti prettamente con legame covalente. Nel legame covalente, due o più atomi mettono in comune una o più coppie di elettroni di valenza. Gli elettroni di valenza sono quelli nel guscio più esterno che sono interessati di fatto ai legami chimici. Il composto che si forma è detto composto molecolare o covalente, che può essere di due tipi. Possiamo avere un covalente puro o omopolare, in cui la molecola non è polarizzata e abbiamo una distribuzione equa intorno a tutta la molecola della carica elettrostatica, oppure un legame polare o etropolare, in cui la differente elettronegatività di due atomi coinvolti distribuisce la nuvola elettronica condivisa in modo diseguale e la molecola avrà un lato prevalentemente positivo e un lato prevalentemente negativo. Questa polarizzazione, come vedremo, è molto importante in chimica, soprattutto in biologia, perché conferisce alle molecole delle proprietà particolari uniche che poi, come nel caso dell'acqua, la rendono una molecola fortemente idonea allo sviluppo della vita. Andiamo avanti e vediamo quali sono queste molecole omopolari e etropolari. Ovviamente l'elio è un gas nobile che non si lega con nessuno, ma molecole come l'idrogeno, l'ossigeno e il cloro che formano queste accoppiate di molecole fatte con lo stesso elemento, abbiamo che queste molecole hanno la loro carica elettrica distribuita in modo omogeneo, perché tutti gli elementi coinvolti nella formazione della molecola attraggono a sé gli elettroni con la stessa forza. Sono come delle persone con la stessa forza che si tirano la stessa coperta. Nessuno rimane scoperto o entrambi rimangono scoperti allo stesso modo. Se invece la molecola, come nel caso dell'acqua, non è simmetrica, cioè il lato destro o quello sinistro ma quello soprastante è diverso da quello sottostante, la molecola non ha questa nuova elettronica distribuita in modo omogeneo e vedremo che questo conferisce all'acqua una forte polarizzazione importantissima per tutti i processi biologici che vedremo a breve. Ci sono molecole come l'acqua che sono costituite da elementi chimici diversi che però sono comunque apolari, perché come nel caso del metano abbiamo un carbonio ma quattro idrogeni ma questi quattro idrogeni sono messi in conformazione simmetrica in modo che tirino gli elettroni tutti quanti nello stesso modo e nonostante la molecola sia fatta da atomi diversi comunque risulta apolare, quindi non polarizzata. Il legame covalente è caratterizzato quindi da un covalente etropolare quando la differenza di elettronegavità tra i due atomi è abbastanza diversa e quindi si crea una dubba elettronica diseguale di elettroni con una parte prevalentemente positiva e una prevalentemente negativa e poi invece il caso del covalente omopolare quando i due atomi sono simili hanno la stessa forza e quindi distribuiscono in modo omogeneo la nube elettronica creando una molecola senza punti particolarmente polarizzati. Possiamo anche dire che questi due legami ionici e covalenti sono tutti quanti una diversa manifestazione dello stesso tipo di legame perché semplicemente dipendono dalla differenza di elettronegività degli atomi coinvolti quindi se la differenza è molto elevata i due atomi si ionizzano e abbiamo un legame ionico se invece la differenza è minore i due atomi non si ionizzano però mettono in comune elettroni e in base alla differenza di elettronegatività questi possono essere più o meno distribuiti in modo omogeneo nel caso del legame omopolare puro e quindi apolare oppure più eterogeneo nel caso del legame ecovalente polare e quindi eteropolare. possiamo avere anche legami singoli o doppi o a volte anche tripli però ricordiamoci che ogni volta che c'è un legame chimico sono coinvolti due elettroni uno da parte di un atomo e uno da parte di un altro atomo quindi quando c'è un legame singolo sono coinvolti solamente due elettroni quando c'è un legame doppio come in questo caso tra due ossigeni sono coinvolti quattro elettroni quando c'è un legame triplo come in questo caso nel caso dell'azoto sono coinvolti sei elettroni due per ogni legame un altro tipo di legame ecovalente che possiamo trovare in biologia è quello dativo in questo caso abbiamo che un solo atomo fornisce entrambe i elettroni per legarsi con un altro atomo quindi abbiamo un solo atomo chiamato donatore che crea un legame fornendo i due elettroni a un altro atomo chiamato accettore e si rappresenta con una freccia che va dall'atomo donatore a quello accettore questi tipi di legami per esempio sono importanti nel caso del pH dell'acqua infatti vedremo anche questo che condiziona moltissimo le caratteristiche chimiche e fisiche di una soluzione sia nell'ambiente esterno in cui vivono esseri viventi che l'ambiente interno di un essere vivente qui vediamo meglio questo effetto abbiamo una coppia di elettroni nel guscio esterno che viene donata a un altro atomo che non fornisce nessun elettrone quindi nel legame covalente dativo abbiamo che il legame avviene quando i due elettroni che creano legame sono ceduti da uno solo dei due atomi l'altro atomo è solamente un accettore passivo questo è solo un estratto della lezione completa di biologia sulla chimica della vita nella lezione completa vedremo quali sono i quattro atomi che costituiscono principalmente gli esseri eventi come idrogeno ossigeno azoto e carbonio vedremo qual è l'importante ruolo dell'acqua nella formazione e nell'esistenza della vita stessa sulla terra in particolare vedremo che cos'è la chimica del carbonio perché il carbonio è l'elemento più importante per gli esseri eventi tant'è vero che questa chimica del carbonio viene anche definita come chimica organica ovvero la chimica degli esseri viventi e poi vedremo quali sono le quattro molecole principali che costituiscono gli esseri eventi come i lipidi i carboidrati gli acidi nucleici cioè il DNA e l'RNA e gli aminoacidi che costituiscono le proteine tutte queste molecole sono fatte sempre dagli stessi quattro atomi idrogeno ossigeno carbonio e azoto potete trovare la lezione completa lezione 2 la chimica della vita e tutto il corso di biologia sul mio canale youtube e sulle mie pagine social instagram e facebook prof Antonio Loiacono grazie grazie grazie